Signori buongiorno a tutti, oggi siamo qui su Via San Polo, sulla piazza di Via San Polo. Perché su questa piazza? Perché questa piazza ancora non ha un nome. Nessuno, questa amministrazione ancora non intitola questa piazza a qualcuno. Ci hanno pensato i residenti, i residenti non solo. Sono state raccolte per più di un anno, circa 600 firme, più di 600 firme. Di persone che vogliono che questa piazza sia intitolata a qualcuno di valore, che abbia un enorme valore. Che dia risalto comunque anche alla città e a questa strada. Questo nome è il nome del maresciallo dei carabinieri Franco Lattanzio, morto a Nassiria. Lo ripeto, sono state raccolte più di 600 firme e a me sembra il minimo intitolare una piazza al maresciallo Franco Lattanzio. Ad una persona come tutti i suoi colleghi che hanno dato la propria vita per difendere i confini, per difendere la nazione dal terrorismo. Ebbene, siamo qui a richiedere nuovamente all'amministrazione, che sembra sorda da anni e da mesi, perché probabilmente gli dà poco, pochissimo valore, non solo a questa piazza, ma dà poco valore a queste cose. E siamo a richiedere nuovamente che questa piazza venga intitolata al maresciallo dei carabinieri Franco Lattanzio. Allora io per questo breve video volevo leggervi un piccolo pezzo del comunicato stampa che fecero allora nel 27 aprile del 2006 sul maresciallo Lattanzio. Ve lo leggo. Chiaro esempio di eletta virtù, di elette virtù militari. Elevatissimo senso del dovere ed assoluta dedizione al servizio, costantemente testimoniati sino all'estremo sacrificio, contribuendo ad elevare il prestigio dell'Italia, delle sue forze armate e dell'arma dei carabinieri. Nasseria, 27 aprile 2006. Ebbene, sindaco, amministrazioni, consiglieri, tutti, mi sembra il minimo che si possa fare. Intitolare questa piazza al maresciallo dei carabinieri Franco Lattanzio. Grazie.